Ciao Vittorio, un ben trovato a te e a tutti gli amici del canale. Torno dopo un lungo periodo di silenzio, come vedete dal mio backstage, purtroppo non sono a casa mia, sono fuori, ma nonostante la precarietà della situazione, ho voluto, d'accordo con Vittorio, girare questo video per celebrare quello che secondo me è un evento che è accaduto nel nostro campionato, ovvero la vittoria dello scudetto del Napoli, in una stagione sicuramente molto particolare, caratterizzata da alcune situazioni che sono state peculiari, come quella dello svolgimento della fase finale dei campionati del mondo nel mese di novembre-dicembre, che ha portato alla sosta quasi per due mesi del nostro campionato, per non parlare poi della situazione legata alla Juventus, con i famosi punti di penalizzazione prima combinati e poi cancellati e con il verdetto rimandato un'altra volta alla Corte federale d'appello da parte del collegio arbitrale perché possa rivedere il processo e eventualmente cancellare o combinare una nuova sanzione che ancora non sappiamo se avrà effetti su questo campionato o sul campionato successivo. Ciò non toglie nulla alla cavalcata trionfale del Napoli, di una città che sicuramente ha imposto un gioco diverso, un gioco sicuramente più brillante, fatto anche di una gestione tattica dello spogliatoio da parte di Mister Spalletti sicuramente eccellente, che ha saputo anche gestire quelle che potevano essere eventuali frizioni tra alcuni giocatori che avrebbero meritato di essere titolari e che invece hanno passato, hanno trascorso gran parte della stagione magari dalla panchina ad osservare la partita. Un equilibrio che il Mister è riuscito a trovare, così come è riuscito a trovare anche un gioco brillante e sfumeggiante, che ha trovato poi il suo apice nel suo stoccatore principale, questo centravanti Osimene, che sicuramente è una delle realtà più belle del nostro campionato e che molto probabilmente sarà lanciato verso palcoscenici molto più importanti, nonostante le parole al miele del Presidente Aurelio De Laurentiis che nella dichiarazione post-partita dell'Udinese che ha sancito ufficialmente lo scudetto a Napoli ha dichiarato che i giocatori migliori resteranno tutti quanti. Ma soprattutto quello che mi premeva da tifoso laziale e anche sottolineare, anche per avere noi una speranza a livello futuro, sono le analogie che legano al di là delle frizioni che ovviamente intercorrono, come riporta la stampa, tra Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito, ma le analogie che ci sono nella gestione delle due società fra Lazio e Napoli. Innanzitutto sono le uniche due tra le prime di questo campionato che sono ancora a conduzione a presidenza assoluta, come piace definirle a me, dove non hanno la possibilità di godere dei vantaggi di fondi di investimento o comunque di altre tipologie di investimento che vengono fatte attraverso istituti privati e che possano in quel modo dare ricchezza e consentire poi un portafoglio sicuramente più ampio. Infatti il successo del Napoli non è sicuramente casuale, ma è figlio di una programmazione a lunga scadenza, di una lungimiranza da parte del Presidente De Laurentiis che come Lotito oggi si trova a gestire due squadre, Lotito gestiva Salernità nel Lazio e il Presidente De Laurentiis Bari e Napoli e che è riuscito poi ad arrivare fino alla conquista dello scudetto attraverso una serie di investimenti oculati che hanno portato poi a valutare alcuni calciatori in maniera assolutamente importante e che hanno consentito una crescita economica della società, una società che come la Lazio si autofinanza e si autosostiene. E' anche grazie ad un pubblico che ogni domenica riempe lo stadio Diego Armando Maradone e che segue la squadra anche nelle trasferte in maniera massiccia e numerosa. Per quanto riguarda i giocatori che sono stati valutati nel tempo dalla gestione Aurelio De Laurentiis, mi viene in mente Lavezzi, Guain Cavani, per non parlare di Insigne, Amsic e Coulibaly, giocatori che sono stati acquistati quasi come sconosciuti e che invece poi hanno dimostrato il loro valore e sono stati rivenduti a peso d'oro, i cui soldi poi quei ricavati comunque sono serviti per poter acquistare giocatori ancora più forti. Io personalmente ero un pochettino scettico vista la cessione di Fabian Ruiz che ritenevo insieme a Luiz Alberto uno dei giocatori più tecnici del nostro campionato. Dicevo avevo dei dubbi sulla sua sostituzione, invece il Napoli è riuscito a costruire credo uno dei centrocampi insieme a quello della Lazio migliori di questo campionato e a dominarlo. Forse l'unico neo che vogliamo trovare nella stagione dei partenopei è quello relativo alla Champions League e di aver ceduto forse contro un avversario che da un punto di vista tecnico quest'anno era abbastanza abbordabile come il Milan, Milan che però ha schierato poi sul campo di gioco, oltre ai calciatori, anche la sua esperienza nelle competizioni internazionali, specialmente nella Champions League, anche per averla vinta più volte e che si è rivelata questa esperienza sicuramente decisiva per il passaggio del turno. Ma una cavalcata del Napoli che deve assolutamente rendere orgoglioso il calcio italiano perché è fatto di sacrificio, anche di passione di una città che ha seguito il campionato riempiendo come avevo detto precedentemente lo stadio, ogni domenica che si giocava in casa seguendo massicciamente anche la squadra in trasferta e che purtroppo in ogni stadio dove va viene vessata ed è soggetta a cori di discriminazione. Non ultimo quello che è successo a Udine quando i tifosi napoletani vincitori dello scudetto hanno fatto una pacifica, invasione di campo giustamente per poter festeggiare con i propri calciatori, non tutte le televisioni hanno poi mostrato ciò che è accaduto, ovvero i tifosi frulani entrati in campo anche loro e che hanno preso abbastonate con le aste delle bandiere ai tifosi napoletani in un gesto che sicuramente io non trovo il senso vista la posizione poi di classifica dell'Udinese che non era quindi neanche uno scontro diretto, a parte che il gesto sarebbe stato comunque ingiustificabile ma a maggior ragione vista e considerato che si festeggiava uno scudetto mentre l'Udinese ha fatto un campionato tranquillo senza grosse velleità non capisco poi qual era la necessità di dover picchiare se no questa rabbia e questo odio che purtroppo serpeggia spesso e volentieri tra nord e sud ancora nei giorni nostri nonostante siamo nel 2023, nonostante il paese avrebbe bisogno mai come oggi di una unità da nord a sud da parte di tutti quanti i suoi cittadini, però complimenti al Napoli, un Napoli che però visto che io sono un tifoso laziale mi lascia anche ben sperare per il futuro della nostra Lazio purché il Presidente Lotito possa in maniera umile anche cercare di carpire qualche piccolo segreto al di là delle problematiche diverse che ovviamente la gestione delle due società hanno perché la Lazio pensiamo che comunque ha ancora dei debiti che deve allo Stato, deve pagare nei confronti dello Stato e che quindi ha delle esigenze di bilancio sicuramente diverse ma sicuramente si può anche carpire qualche cosa, qualche segreto dal Napoli per non sperare magari anche di carpire qualche esperto del settore tecnico che possa aiutare il nostro direttore sportivo anche magari ad avere una maggiore efficacia negli acquisti di mercato che lui fa. La Lazio come tutti sappiamo è alla vigilia di uno scontro importante, di una trasferta contro il Milan, oggi è seconda in classifica la Lazio, questo scontro potrebbe rivelarsi fondamentale per mantenere questa posizione in classifica che noi tutti ci auguriamo che possa essere così tenuta fino a fine di questa stagione per avere poi un campionato dove prima e seconda in classifica possano riportarci a noi quelli che sono i colori del mare e quindi dell'azzurro pertenopeo e i colori del cielo, del celeste della nostra Lazio che poi di fatto cielo e mare sono le due cose che più ci vengono invidiate in tutto quanto il mondo e per i quali insieme alla pasta asciutta siamo famosi in tutto il mondo. Io non ho altro da aggiungere, ringrazio sempre tutti quanti voi per i commenti di supporto che fate al canale, canale al quale io vi invito sempre di iscrivervi se vi piacciono i contenuti e di mettere un like per farlo crescere, non ve lo scordate perché a voi non costa nulla e a Vittorio serve per poter far crescere sempre di più questo canale e a voi tutti io vi aspetto al prossimo approfondimento, vi auguro un buon fine settimana, vi abbraccio a tutti e un ciao da Luca, forza Lazio sempre, ciao!